La Francia accusa il regime di Assad dell'attacco chimico nella provincia di Idlib del 4 aprile scorso. Il bombardamento costò la vita 87 persone. Il ministro degli esteri, Jean-Marc Ayrault, ritiene che non ci siano dubbi sul fatto che il gas salin sia stato fabbricato nei laboratori siriani. Sappiamo, da fonti attendibili, che il metodo di fabbricazione del salin ritrovato sui corpi delle vittime è identico a quello sviluppato nei laboratori siriani. Questo metodo è la firma del regime che ci permette di stabilire la sua responsabilità in questo attacco. L'intelligenza francese ritiene che solo il regime sia in grado di ordinare quel tipo di bombardamento e che non si possa addossare la responsabilità alle forze dell'opposizione. Inoltre, sostengono i servizi segreti di Parigi, l'alleanza jihadista non ha la capacità di sferrare quel tipo di attacco nella zona di Khan Sheikhoun. Il 4 aprile scorso i caccia del regime hanno colpito la città sei volte.